Resteremo aperti, non chiuderemo. Il supermercato è pieno di merce e tutto lo staff lavora a pieno ritmo in vista delle festività e augura un buon Natale a tutti i cittadini e ai clienti affezionati. Arriva dal punto di vendita Eurospar di Via Valdemone di Mazzola del Vallo, quindi la smentita sulle sempre più incessanti voci della chiusura definitiva e imminente del gruppo Despar, catena di supermercati sparsi in tutta la Sicilia. E' proprio il titolare dell'Eurospar che ci ha contattati affermando senza ombra di dubbio che i supermercati del gruppo Despar a Mazzola del Vallo non chiuderanno i battenti a fine mese. Inoltre sono sempre più certe le voci che vedono l'interesse di una grande realtà imprenditoriale del Nord Italia verso il gruppo Despar e sembrerebbe che ci siano accordi sul tavolo di lavoro per salvare 48 punti vendita dalla chiusura e i 1.256 lavoratori dalla cassa integrazione a causa del caso Grigoli. Resta quindi ferma la smentita della chiusura dei supermercati Despar di Mazzola del Vallo.